ciao a tutti oggi vi propongo una ricetta originale per un aperitivo con gli amici farò un carpaccio di manzo in cialda di pane carasau con guacamole gli ingredienti per questa ricetta sono pane carasau carpaccio di manzo burrata insalata avocado pomodorini lime e scalogno parto subito facendo la cialda di pane carasau fritta prendo il pane carasau e lo metto nell'olio di semi d'arachide bollente basterà giusto un secondo gli do la forma con delle pinze ora che calda aggiungo un po di sale e la metto da parte intanto preparo guacamole un avocado bello maturo aggiungo il succo di lime pomodorini e una puntina di scalogno ne basta così sale pepe e abbondante olio ora frullo tutto non mi resta che condire il mio carpaccio di manzo con un pochino di scorza di lime e delle erbe aromatiche un po di timo una fogliolina di basilico e un po di rosmarino trito tutto aggiungo sale olio e il mio trito aromatico perfetto sono pronta a impiattare ecco qua la mia ricetta è pronta e buon aperitivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti